Oh no, questa musica mi può significare soltanto una cosa, non l'ho mai sentita Vado a chiedere appunto di scogliare Ahahahah! Perché? Oh Rocco Khan, non ci credo Lo scorso episodio di Tomodachi Live si è concluso con un cliffhanger degno delle migliori serie tv E lo so che mi avete odiato anche solo un pochettino, ma il colpo di scena ci stava Il buon Garfield mi aveva appena rivelato di provare dei sentimenti per Rachel Rachel che tuttavia è fidanzata con Rana Sarà giunto il momento di prendere in considerazione il triangolo? Che bello, mi ci voleva un po' di gossip sull'isola chiappetta Prima di continuare con il video vi voglio ricordare che tutti i giorni, tranne il sabato, alle 7 sono in live sul mio canale Twitch Trovate il link sia all'interno della descrizione che nel commento pinnato in alto insieme a quello del mio shop ufficiale Nel quale sono disponibili un sacco di felpe, maglie, t-shirt e accessori per tutti quanti gli eroi veri E adesso passo la linea al tier del passato, così che possa narrarci le vicende di Garfield e Rachel Ho appena rovinato una potenziale relazione Lady Burger e Garfield Hot Dog E questo perché voglio vedere di chi Garfield è innamorato Ma Rachel non sta con Rana, fermi tu Proviamo a rovinare la coppia, vi prego proviamoci Vai buon uomo, ti aiuterò io Confessale il tuo amore in modo spettacolare E per far sì che sia spettacolare glielo devi dire in spiaggia Ti prego fa che Rachel si presenti nonostante stia con Rana Si è presentata, si è presentata, vediamo cosa succede Oh no, oh no, ho paura di quello che potrebbe dire Rachel LUCA Ma la gente si è dimenticata per caso del fatto che lei stia con Rana o cosa? Chicken Little? SpongeBob? No 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 no, fermi tutti, perché vogliono tutti Rachel? Cosa succede qua e perché SpongeBob è uscito dall'acqua? Quanto è perfetta questa cosa? Adesso li piscia tutti e tre e rido un fotto Garfield? Luca? Oppure SpongeBob? Oh No li ha pisciati tutti e tre davvero No povero patato Garfield Sorry E a questo punto per tirare sul morale a Garfield direi di provare a setapparlo con Lady Burger A cui l'ultima volta avevamo impedito di provarci con Garfield Ma magari adesso è il momento giusto e ci riprova, vero? Mi sa che non valgo però No, che tristezza Non ho più fiducia nelle mie... Ma no! Come non detto, non c'è modo di tirare Lady Burger su di morale Bravo Tiara, hai rovinato dodici relazioni in un colpo solo Four to six days later Signore e signori, vi do il bentornato al presente Anche se comunque per voi è passato ma è meno passato dell'altro passato Sbalzi temporali a parte, credo che questo sia il presente più blando di sempre Negli appartamenti non c'è letteralmente nulla da fare Ci sono due problemi e una questione di amicizia al secondo piano Ma per il resto assolutamente niente Cominciamo con i problemini di Sans e Franco Nella speranza di trovare lo spray per capelli per Totò I grandi problemi della vita, Sans Minchia, c'è il caviale nel negozio Però costa 60 euro, se proprio devo comprarlo lo do a qualcuno di importante Sans beccati sti calamari Ma sto infamio non mi ha dato nulla in cambio del cibo Ma è che? Sto facendo la carità Oh no, Franco sta dormendo, ci sarà un sogno di quelli stranissimi Franco ti voglio dare un consiglio Se cominci a girare in senso anti-orario le pre... Come non detto è un idiota Oh yes, ho sbloccato delle arachidi, poggers Considerato il sogno che ha fatto probabilmente ha fame Ti do le arachidi che stavi sognando, magari sarai contento, che ne dici? Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più Pensavo di aver beccato il suo cibo super preferito E un po' ci rimango male, sarò sincero Vediamo adesso con chi vuole fare amicizia Cinzia O forse dovrei dire amicinzia Haha, che ridere Non so quanto possono andare d'accordo i due Ma proviamoci lo stesso Ma i suoi capelli hanno appena trapassato il pomello Mmm, forse ho sbagliato l'argomento Non sembrano tanto presi Oh, ha incredibilmente funzionato Non avrei mai detto E Cinzia mi ha dato un carrion Non lo terrò mai quello spray, vero? Dal momento che nessuno ha più bisogno di niente Passiamo alla mia parte preferita Andare in piazza a raccogliere i soldi come uno strozzino Bravi, bravi, infamotti, sganciate Se vedo delle monete Ah, minion! Oh, perché mettono tutte le monetine E nessuno che vuole sganciare le banconote? Raccolto molto magro oggi Questo vuol dire che dovrò fare stragi di miei Un paio di episodi fa avevo visto dei commenti Che mi dicevano di andare al Luna Park Perché spesso qui si trova gente che vende robe E in effetti è vero, l'ilcica la bancarella Vuoi comprare una busta sorpresa a 50 euro? Posso fare il titolo Mystery Box da 50 euro su Tomodachi Life? Dai, apriamola Vediamo come abbiamo sprecato i nostri soldi Il primo oggetto è... Una lente di ingrandimento Nice! Bello schifo Vediamo il secondo oggetto che cos'è? Un uniforme da capit... Quel colore verdino è dannatamente orribile Non saprei neanche a chi darla Terzo oggetto invece sarà... Delle perline di vetro Ah, tutto qua C'erano tre oggetti e basta Bello schifo, sono stato scammato dall'ilchic Oh yes, nuovi problemi da risolvere Grazie Asami Aspetta, ma Asami è la migliore amica di Orca Misery? Orca Misery mi deludi tantissimo Non voglio più avere nulla a che fare con te Attaccati al cazzo Asami Non è vero, tieni questa banana E in cambio dammi lo spray per capelli, please Rulo di tamburi Oh! Cacchio, ho visto lo spray e sono andato in hype Invece è l'adulto spray Che se non sbaglio fa diventare i bambini adulti Ma da noi sono tutti adulti, quindi cambia poco Oh mio Dio! C'è dell'amore nella finestra del mio Mii E questo vuol dire soltanto due cose O vuole lasciare Pikachu perché si è innamorato di qualcun altro Oppure Pelatier vuole sposarsi con Pikachu Non... 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 Non so cosa dire Yoko distraimi per favore Perché hai bisogno di 30,50 euro? Da quando i Mii possono chiedere dei prestiti? Va bene, te le do i soldi Ma cosa ti servono? Davvero? Nessun problema Grazie, intanto Ma io le ho dato dei soldi E poi lei mi ha ridato dei soldi indietro Ma per cosa li usi quei soldi? Non ho capito, sono confuso A giudicare da quello che sto vedendo Direi che il Pelatiare è molto innamorato C'è un matrimonio in vista per il mio Mii? Pelatiare e Pikachu sarà davvero la coppia del decennio? Oh no, questa musica mi può significare soltanto una cosa Non l'ho mai sentita Voglio chiedere apprezzato di soldi Ahaha Perché? Oh Rococan, non ci credo Dai, Pelatiare, facciamolo adesso È il primo matrimonio dell'isola Chiappetta Voglio che le cose siano fatte in grande, Pelatiare Quindi glielo diremo ai fuochi d'artificio Forse prima dovrei cambiarti Non hai bisogno di cambiarti Stai per sposarti con questa persona Pokémon più che persone in realtà Devi amarti per quello che sei Quindi va bene così Non osare cambiare vestito Fammi sapere quando Pikachu sta pensando a me Nessun problema anche se non so cosa significhi Quando pensa a Tier dai il segnale Vediamo che cosa ha in testa Pikachu Penso che si metta a pensare Popcorn Zucchero filato Nulla Patatine fritte C'ha fame Me Wow, che grandi conversazioni Questa qua c'ha una fame che metta basta, poveraccia Pensa davvero soltanto al cibo Eccolo Classica frase super cliché Dannazione Non sta pensando a nulla in questo momento Adesso la caccerà al volo Durerà una frazione di secondo E dovrò Perché SpongeBob? Eh Non tirarla così per le lunghe Gioco però Muoviti Falla sta domanda Oh Belatiare Oh Yes Devo applaudire È cosa stupida Oh C'è l'amore nell'aria Ma che carini Grazie per la Tier Lo so Regalami sto spray Buono per un viaggio Mi ci vorrebbe anche Però col coronavirus è un casino viaggiare Fermi tutti C'è davvero la cerimonia Yes Ma perché a Pikachu sono apparsi dei capelli? Scusatemi Cosa succede? Bravi Uh Vediamo che sono i testimoni e gli invitati C'è Rachel Lady Burger Chica SpongeBob Garfield Orca Misery Rane Luca Cosa ci fa Luca lì? Ma che bravi Ma che carini Applausi Uh Ancora non mi capace Dove perché abbiano aggiunto dei capelli a Pikachu Luna di miele alle Hawaii Pog Anch'io voglio andare alle Hawaii È una foto terribile in bianco e nero Scusatemi ma questo vuol dire che io sono in viaggio di nozze con loro Devo davvero fare il terzo incomodo Ma che palle Mi piace che probabilmente Pikachu qua sotto è in posa come pelatiar Ma è troppo bassa e quindi non si vede Comunque questi sono i peggiori scatti dell'Hawaii che abbia mai visto Quante palme? Siamo Quanto ansia fa vedere moglie Pikachu Oh yes Per la tier sale di un altro livello E gli regalo una Wii U così che possa fare i video Tieni caro enjoy Aprono le villette miei Oh figo per le coppie sposate Ci sta ci sta Quindi questo significa che tier e Pikachu hanno la loro casa adesso Oh ma che carucci Questo però vuol dire che non potrò mai avere né Chica né Yoko né Britney Nessuno Che gigantesca tristezza Ok quindi tier e Pikachu hanno la loro casa Ma comunque mantengono anche l'appartamento Ha senso come cosa? Non credo Ma va bene così gioco mi fido E intanto noi continuiamo a risolvere problemini in giro Prima però voglio aggiungere un altro Mii Un Mii che in tempi recenti sta facendo impazzire le persone su Animal Crossing Signore e signori diamo il benvenuto a Tom Nook O perlomeno un Mii che anche se molto alla lontana ci assomiglia un minimo Ma proprio molto alla lontana Il buon Tom Nook avrà i movimenti abbastanza rapidi Perché è rapido agli ho incarti i soldi dalle tasche Parla in maniera molto diretta Ha un'espressione abbastanza calma È molto serio e relativamente originale Il che ha prodotto un Mii di tipo deciso e determinato Periodo libero che segue la propria strada senza prestare attenzione agli altri E la sua strada è quella di fotterti tutti i soldi che hai accumulato Minchia a tempo di creare un Mii appaiono 400 problemi Comunque Tom Nook è un Mii davvero orripilante Non si può vedere Tanto meglio significa bebè più storti Oh no non dirmi che adesso tutti i Mii hanno fame Tieni Britney ho dei calamari fritti che ti piaceranno tanto vero? Beh non l'avrei mai detto Io ho con la Milforei per caso ho bisogno di altri soldi? Cioè prima vuole i soldi e poi vuole anche un vestito Inizia a starmi un po' antipatica sappilo Peccati l'uniforme da capitano e non rompere le balle Incredibilmente le è piaciuta un sacco Set per l'ipnosi Non vedrò mai quel dannato spray vero? Quanto mi fa ridere Luca tutto triste sotto la pioggia? Oh no Luca è il migliore amico di Rachel Cosa? Sto scoprendo delle relazioni orribili oggi Oh yes Luca ha ricevuto un'altra lettera che lo intima di andare sul tetto Andiamo subito a vedere le adoro ste cavolate Attenzione Luca arriva sul tetto degli appartamenti Chi sarà la persona misteriosa? È Lady B! Lady B che è stata respinta da Luca! Vediamo ora che cosa ha da dirgli la nostra burgerona preferita Ho scritto questa poesia Ma io voglio leggere la poesia scusate Oh spray per capelli? Ma che regalo di me Credo che questo sia stato davvero l'episodio più strano e con più gossip e amore di sempre Ma hey almeno ci abbiamo ricavato una coppia di sposini Un applauso appellatiare a Pikachu che si sono sposati Nasceranno dei nuovi amori? Quelli già esistenti cesseranno di esistere? Vedremo nascere dei bambini da questa nostra nuova coppietta? È ancora presto per dirlo Lo scopriremo nei prossimi episodi di Tomodachi Life Grazie a tutti